Salve, questa è l'occasione per formularci gli auguri di un sereno Natale e di un 2013 più ricco sicuramente di soddisfazioni. Un augurio soprattutto ai soci della nostra banca, la banca di credo cooperativo di Ficciano, a tutti i clienti e alle comunità dove la banca è presente, alle istituzioni locali che ci sono sempre vicine, le scuole, i comuni, i sindaci, quindi tutti gli amministratori locali che hanno e condividono con noi questo progetto della nostra banca sul territorio. Un augurio soprattutto a chi oggi sconda delle difficoltà, la banca è vicina soprattutto a queste persone per aiutarle sicuramente a vivere meglio e l'augurio per il 2013 è proprio questo, cioè di tentare di creare quanto più serenità alle persone che purtroppo oggi sono in difficoltà, quindi ci auguriamo che questo 2013 per queste persone possa essere un anno migliore.